gentili telespettatori buona giornata il padre di laria salis dice alla stampa che mattarella lo ha chiamato e ha garantito il suo personale interessamento al caso mattarella chiama il padre di laria salis perché il padre di laria salis ha scritto a mattarella proprio ieri chiedendo un suo intervento e una sveglia diciamo così al governo e mattarella ha chiamato subito ha telefonato a roberto salis la disparità di trattamento colpisce l'opinione pubblica dice ribadendo la sua vicinanza personale e che si interesserà il diciamo quell'altro ragazzo italiano che l'ungheria ha chiesto l'estradizione perché era anche lui a budapest a esattamente fare non si è capito bene che cosa solo che lui questo ragazzo è riuscito a ritornare in italia se no a quest'ora sarebbe in catene al guinzaglio anche lui in ungheria la differenza tra la salis e questo ragazzo italiano è che il ragazzo è riuscito a tornare in italia sono due stati differenti l'italia è una democrazia l'ungheria è una è una democratura un'autocrazia non è un posto liberale è il liberale come dice lo stesso orban pertanto sono due paesi differenti con due tipi di leggi differenti e con diverse ideologie pene eccetera eccetera il risultato è che il ragazzo in italia è stato praticamente liberato può libero da ogni accusa in italia questo ragazzo può andare in giro liberamente fare quello che vuole mentre ilaria salis è al guinzaglio in ungheria il padre chiede a mattarella perché queste differenze ma la risposta ovviamente è quella che vi ho dato due stati diversi due tipi di leggi diverse la nostra è una democrazia quella non lo è il risultato è che un estremista di sinistra in una in una in uno stato non liberale di uno stato gestito dall'estrema destra un estremista di sinistra diciamo che non se la passa bene ovviamente e come un estremista di destra in una dittatura comunista ecco questo è il punto il padre di laria salis roberto dice il presidente della repubblica ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia nel corso della telefonata mattarella avrebbe detto questo la differenza tra il nostro sistema ispirato ai valori europei e il loro sistema ha determinato questa situazione che ha portato a una disparità di trattamento tra due cittadini italiani così mattarella nel corso della telefonata in cui inoltre ha sottolineato come questa disparità colpisce la nostra pubblica opinione salis ha ringraziato ha ringraziato ingraziato e mattarella gli ha detto che più avanti si potranno risentire e sì il ragazzo è libero di andare a passeggiare oggi in centro a vedere le vetrine magari comprarsi qualcosa e l'altra ragazza per lo stesso tipo di situazione è al guinzaglio con le catene questa è la differenza tra la democrazia e gli stati che non sono democratici poi su quello che è realmente l'ungheria potete voi definirla meglio non si può parlare di dittatura ma non si può parlare neanche di democrazia quegli stati vengono chiamati delle democrature dove sono delle dittature elettorali ecco e sono in europa fanno parte dell'europa infatti avete visto che orban ha preso delle posizioni diverse dal resto dell'europa sui conflitti internazionali quindi lui è più vicino orban ad altre dittature simile alla sua che alle democrazie avete visto le prese di posizione che ha avuto però non è una vera e propria dittatura è un qualcosina meno ma siamo sempre nell'ambito di uno stato gestito in una maniera autoritaria dall'estrema destra quello che poi la sinistra accusava il governo italiano di volersi ungherizzare di diventare una specie di repubblica non proprio democratica ecco questa era questa era l'accusa probabilmente questo orban grande amico di meloni e salvini dovrebbe credo oggi essere visto in maniera diversa da questi amici italiani ecco perlomeno allontanato ecco chiudere l'amicizia e adesso poi non so la meloni che cosa potrà fare perché il padre di Ilaria Salis chiede a Mattarella di svegliare il governo ma la situazione è molto complessa ci sono diversi diversi fattori ci sono le elezioni europee le alleanze europee orban l'amico il paese vicino il paese di destra e poi gli stati differenti la finta autonomia della magistratura ungherese la politica interna in ungheria dove orban se libera questa ragazza perde chissà quanti voti perché è un paese che è schierato all'estrema destra e vorrebbe una punizione esemplare per questa salis come monito a tutti quelli che pensino in un futuro di prender su e andare in ungheria a fare quello che che di solito vanno a fare quelli di estrema sinistra che partono e vanno in ungheria quando ci sono questi raduni neonazi ecco è un monito come dire che nessuno venga qui a pensare di di fare alcune cose grazie a tutti e buon proseguimento di giornata arrivederci e grazie